È chiaro che sarà una festa all'insegno della sobrietà, comunque è importante un momento di questo genere perché poi rientra anche nell'ottica non solo di celebrare giustamente l'anniversario di nascita della Repubblica Democratica Italiana ma anche un'occasione per rafforzare i rapporti bilaterali, per fare un networking di alto livello tra operatori economici, rappresentanti di istituzioni culturali, poi è l'ambasciata, ovviamente non siamo noi degli istituti di cultura a organizzare noi ci limitiamo a suggerire un po' di inviti del mondo culturale, poi io gestirò i contatti con direttori di festival, di musei, intellettuali, traduttori, letterari e poi ci sarà una premiazione quest'anno, questo è un inedito assoluto per il 2 giugno di quest'anno è un omaggio all'Ucraina ed è una, chiamiamo, una coda della giornata, il cosiddetto Design Day la giornata del design che è un'iniziativa del Ministero degli Affari Esti e della Cooperazione Internazionale giunta quest'anno alla settima edizione, siamo riusciti nonostante la guerra, questo grazie all'ambasciata che ha fatto un lavoro straordinario perché io ero a Leopoli in quel momento e quindi io ho coordinato da Leopoli una parte e il resto è stato fatto dall'ambasciata poi sono venuto a Kiev e anche quel giorno ci sono stati bombardamenti in primissima mattinata nonostante questo abbiamo fatto la giornata del design con un pubblico di studenti universitari molto folto, intellettuali, designer, giornalisti e in quell'occasione abbiamo lanciato l'idea di un concorso la tematica della giornata scelta dal Ministero degli Esteri è qualità che illumina l'energia del design per le persone e per l'ambiente abbiamo voluto declinarle in chiave di risparmio energetico e sostenibilità ambientale e quindi abbiamo lanciato un concorso fra studenti delle facoltà del design affinché creassero una lampada o un prodotto per l'illuminazione in qualche modo collegandosi alla storia ricchissima del design italiano con questi criteri che ho appena detto, sostenibilità e risparmio energetico qui c'è drammatica la situazione è stata l'inverno scorso con l'energia elettrica e quindi noi diciamo sempre come la nazione, lo stato ucraino è riuscito a fronteggiare l'emergenza allo stesso modo gli studenti universitari hanno testimoniato come lavorando sul design ispirandosi un po' alla tradizione italiana del design abbiano acceso delle luci di speranza che sono anche un monito per chi vuole spegnere l'identità di questo paese